Siamo tornati nello studio della dottoressa Daniela Limonta, la nostra dietologa. Ciao Daniela. Ciao Giulia. Oggi ci racconterai tutto sui legumi, Daniela. Sì, mi sono resa conto che in questi anni, in questo spazio di mangiare informati, non ho mai parlato di legumi, che sono invece una parte così importante della nostra nutrizione. Questi pochi minuti li dedicheremo proprio ai legumi e ai loro aspetti nutrizionali. I legumi che cosa sono? Sono una fonte di proteine vegetali, quindi in scienze dell'alimentazione non sono un contorno, ma sono un secondo, sono un secondo vegetariano. E questo non lo dice la dottoressa Limonta, lo dice anche la piramide alimentare ministeriale, che è quel simbolo di sana e corretta alimentazione che dovrebbe guidarci nella scelta degli alimenti ogni giorno. Ecco, nella piramide alimentare tutti i legumi sono collocati insieme alla carne, al pesce, alle uova, proprio perché sono un secondo piatto. Allora, quali sono i legumi più utilizzati in Italia? I fagioli, i piselli, i ceci, le lenticchie, poi abbiamo anche le fave, lupini e cicerchie e la soia, che non è proprio un legume italiano perché arriva dall'Oriente, ma ormai è molto utilizzata. Allora, noi dobbiamo imparare a consumare regolarmente almeno due volte alla settimana i legumi e proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica nel 2016 è stato dichiarato l'anno internazionale dei legumi. Non lo sapevo. E Daniela, qual è la porzione di riferimento? Allora, secondo la società italiana di nutrizione umana, la porzione ideale di legumi, quindi non a dieta dimagrante, ma in alimentazione normale, è quella dei 50 grammi per i legumi secchi e di 150 grammi per i legumi freschi. Ovvio poi i legumi li possiamo mangiare come secondo piatto oppure lo possiamo abbinare a dei primi piatti. È un'abbinata molto intelligente dal punto di vista alimentare perché i legumi mancano di alcuni aminoacidi che però troviamo nei cereali. Quindi una bella pasta e pagioli, riso e lenticchie, riso e piselli ci danno tutti gli aminoacidi essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno. So che hai preparato un vero e proprio decalogo. Certo, che adesso andremo a leggere insieme, che racconta un po' tutti i pregi di questi legumi e il perché dovremmo mangiarne di più ogni anno. Adesso iniziamo a ricordare qual è il consumo pro capite in Italia di quello di circa un chilo e mezzo, due chili di legumi l'anno per persona, che ha un consumo basso. Pensa che nel dopoguerra si arrivava a dieci volte tanto, almeno 20 chili pro capite. Erano chiamate proprio la carne dei poveri, perché nel dopoguerra in Italia c'era una sorta di crisi economica, si era poveri, la carne era poco presente sulle nostre tavole, ma molto più presenti erano i legumi. Anche perché in effetti penso che molto spesso noi li trattiamo appunto come un contorno, pensare che sono proprio in sostituzione di un secondo. Sì, ma questo lo vedo tranquillamente nei miei pazienti, che magari mi chiamano e dicono ma nella lista delle verdure non trovo i piselli, non la trova nella lista delle verdure perché i piselli non sono una verdura. Ti guardano un po' saniti, come non è una verdura? No, il fatto che siano di fianco alla bistecca non significa che sono un contorno e quindi una verdura. I piselli sono un secondo vegetariano, un secondo vegetale. Allora, vediamo questo decalogo. Vediamo questo decalogo e leggiamolo insieme. I legumi andrebbero consumati perché hanno pochi grassi, in effetti hanno pochissimi grassi, quindi sono indicate in tutte le diete anche le diete dimagranti. Non hanno colesterolo, diciamo tante volte, tutti gli alimenti di origine vegetale non hanno colesterolo perché colesterolo è un grasso di origine animale. Non hanno glutine, quindi tranquillamente chi soffre di celiachia può consumare lenticchie, fave, piselli, ceci e fagioli. Hanno poco sodio, quindi rispetto alla carne e al pesce è innegabile che abbiamo un risparmio, quindi ottimi per tutti i pazienti che hanno problemi di ipertensione arteriosa o problemi renali. Hanno un basso indice glicemico e questi sempre più studi stanno confermando il beneficio di consumare regolarmente i legumi nei pazienti diabetici, dove si consiglia almeno 3-4 volte la settimana il consumo di legumi. Sono ricchi in fibra, quindi importanti per il nostro intestino. Sono ricchi in proteine, però qui dobbiamo dire che non sono le proteine nobili della carne del pesce, sono proteine vegetali, però sono pur sempre proteine. Sono una buona fonte di ferro e anche qui è un ferro di origine vegetale. Quindi nei vegetali, come nei famosi spinaci di braccio di ferro, sì c'è il ferro, anche nei legumi c'è ferro, ma è un ferro che si trova complessato con altre sostanze che ne limitano l'assorbimento. Quindi il ferro c'è, ma è poco assorbibile. Però c'è, è vero, rispetto ad altri alimenti vegetali, nei legumi ci sono più molecole di ferro, anche se poi noi abbiamo un po' di difficoltà ad assorbirlo. Sono una buona fonte di potassio e sono una buona fonte di folati. Quindi essendo ricchi in folati, che è l'acido folico, e ricchi anche in fibra, sono un alimento ideale per le donne in gravidanza. Perché oriamo che l'acido folico è importante sia per la gravida che per il nascituro. Daniela, un altro alimento che non è propriamente della nostra tradizione, ma come abbiamo detto prima c'è la soia, per esempio, che è arrivata da noi, anche l'hummus, che è fatto con i ceci? Esatto, è fatto con farina di ceci e di sesamo. È una sorta di salsina, con cui si possono accompagnare del pane, delle focacce, dei cracker. Adesso va molto di moda, essendo una salsa, però le calorie ce le ha, perché abbiamo circa 166 calorie per 100 grammi, ma è una cosa che adesso vedo che va di moda, e almeno diciamo che cos'è, è fatta con farina di ceci. Poi esistono anche, è libanese come origine, abbiamo anche prodotti fatti italiani con la farina di ceci, pensiamo alla farinata, a chi non piace la farinata è quella fatta con farina di ceci. Anche in questo caso, quindi, attenzione al consumo? Sì, allora, anche la farinata non è proprio un alimento così dietetico, però è un alimento molto saziante. I legumi, avendo tutte queste fibre, comunque saziano. Adesso ho visto anche nei supermercati dei nuovi prodotti fatti con la farina di legumi, abbiamo la pasta, i cracker, le fette biscottate, i biscotti, sono un buon alimento, vanno provati, ovvio che se uno prova una pasta fatta con farina di legumi, non ha proprio lo stesso sapore della pasta con semola di grano duro, però è una buona fonte proteica, saziano di più, hanno meno calorie, hanno un indice glicemico più basso, quindi sono paste da provare e se siete diabetici e piacciono, perché no, potrebbero diventare una pasta da consumare regolarmente una o due volte alla settimana. Daniela, grazie mille, è sempre un piacere ascoltarti e venire a trovarti. No one can hold her, she's floating to...